Due Living Lab messi a disposizione dei cittadini dell'Aquila grazie al progetto MedQuad. Il progetto prevede uno spazio comune di conoscenza e innovazione per migliorare la capacità di innovazione delle aree del bacino del Mediterraneo. Un progetto attuato dall'Ateneo Aquilano con diversi partner, tra cui Comune e Gran Sasso Acqua, che ha consentito di creare due Living Lab trasnazionali per il controllo della qualità dell'acqua e del suo uso da parte dei cittadini e fornitori e per la valorizzazione dei siti archeologici. La project manager per l'Italia è la professoressa Tozzi. Il progetto infatti è stato portato avanti anche in altri stati contemporaneamente. Gli obiettivi del progetto sono stati presentati a Palazzo Fibioni alla presenza dell'assessore comunale alle politiche europee Palleggiuliane, del rettore Edoardo Alesse, della professoressa Tozzi appunto e del presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini. Allora, restano al comune, nel senso che tutte le apparecchieture restano al comune. La sperimentazione, il progetto l'ha fatto su due argomenti particolarmente importanti, soprattutto in questi ultimi periodi, che è la qualità dell'acqua, non solo in tante variazioni, in tante interpretazioni, e la valorizzazione tramite realtà virtuale aumentata e realtà virtuale appunto, dei siti archeologici. Stiamo facendo una... questi Living Lab è il primo esperimento di cross-border Living Lab, perché le sei nazioni coinvolte, Italia, Grecia, Giordania, Palestina, Tunisia e Egitto, stanno facendo le stesse cose, ovviamente interpretate secondo le esigenze del territorio. E questi Living Lab sono cross-border, per cui lavoreranno insieme, e lavorare insieme significa che mettono insieme le esigenze delle persone. Le persone, oltre alla ricerca, all'industria, eccetera, cose note già avvenute, si chiede alle persone di lavorare insieme con queste istituzioni e fare per esempio quali sono i problemi principali da affrontare insieme, tutti insieme per il benessere di tutti e del territorio.